Ok, stiamo scendo, stiamo scendo. Stiamo scendo, stiamo scendo. Scusa. Scusa che sia scusa. Quella cosa con la vela, dici? No, quella senza vela. Come si intende? Sono le onde e sono... La ci portate, la vela? No. La ci portate. La ci portate, la vela? Scusa. Come fai? È un professionista di Occia. Si può fare il test in Italia? Tu riguardalo. Scusa a canare tutti quanti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti